Secondo i magistrati della DDA di Caltanissetta, il compito di ricostruire il clan mafioso degli Emanuello era stato affidato alla 35enne Gianluca Pellegrino. Lo scorso febbraio, al termine dell'istruttoria dibattimentale scaturita dall'inchiesta Falco, i giudici del collegio penale del Tribunale, presieduto da Miriam D'Amore, Allatere Mari Camarino e Silvia Passanisi, lo hanno condannato a 22 anni e 3 mesi di reclusione e l'ammontare complessivo delle pene inrogate superiore a 120 anni di detenzione. Sono state depositate le motivazioni della sentenza emessa a conclusione di una lunga attività dibattimentale. In gran parte sono state accolte le ricostruzioni dei PM della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Il gruppo capeggiato da Pellegrino avrebbe messo le mani nella gestione della droga, nell'estorsione e nelle imposizioni dei servizi di buttafuori ai titolari di diversi locali della città. In base a quanto emerso era Pellegrino che avrebbe fatto da tramite tra i vecchi boss il nuovo corso. Le motivazioni redatte dai giudici confermano la linea seguita dal PM della DDA Matteo Campagnaro che ha sostenuto l'accusa in aula. Dieci anni e due mesi di detenzione sono stati imposti ad Alessandro Pellegrino, fratello di Gianluca, con l'aggravante di aver favorito i clan. Tredici anni e sei mesi ad Orazio Tosto, tredici anni e otto mesi a Giovan Battista Campo, dieci anni e un mese ad Emanuele Faraci, dieci anni ad Angelo Famao, sette anni e un mese a Guido Legname, sei anni ad Emanuele Puccio, quattro anni e sei mesi a Emanuele Rolla, quattro anni e un mese ciascuno per Nunzio Labbiso ed Emanuele Campo, quattro anni a Nicolo Ciaramella e Francesco Metellino, tre anni a Loreto Saverino e Melchiorre Escherra, due anni e otto mesi a Gaetano Davide Tranito e due anni a Rosario Perna. La soluzione invece è arrivata solo nei confronti di Emanuele Emanuele, Daniele Puccio e Giuseppe Di Noto, Pietro Caruso e Angelo Scialabba con il deposito delle motivazioni legali di difesa degli imputati condannati si preparano a presentare appello.